Questo sopralluogo è stato richiesto dal Movimento 5 Stelle per cercare di capire come rivitalizzare questo posto, come riuscire a farne una risorsa per il territorio come poteva essere fatto. La nostra istanza in realtà anticipa quella che è la visita del dottor Pasquale, che verrà nella settimana prossima durante la commissione della terza, per parlarci di quello che è il progetto dello sviluppo economico riguardo al recupero anche degli studi, è stato che entra in quello che è l'agglomerato di progetti che dovrebbero far parte, o almeno speriamo che le parole del dottor Pasquale ci lo confermino, del recupero prima della Umbria Film Commission che è stata appena ricostituita e della progettualità che ovviamente devono essere centralizzate, quanto meno su quello che è la storia del cinema ternano, dato che abbiamo visto qua quelli che sono i resti di produzioni anche importanti, tra l'altro qui è stata girata la vita è bella, come conferma questo Devliant storico che abbiamo recuperato, quindi lo scopo è immaginare questo posto a distanza di qualche anno vivo, pieno di gente che lavora qua dentro, quindi produzioni attive e tutto quello che può essere, quindi questo è l'impegno di chi oggi a fine mandato, speriamo che il dottor Pasquale si prenda l'impegno insieme a Umbria Film Commission di rimettere al centro queste strutture, questo sito, perché non è possibile, dopo quello che abbiamo visto, ma che già conoscevamo, che tanti cittadini di Terni non conoscono purtroppo, che non è possibile che finisca in questo modo.